A GSM e AIM, azienda multiservizi municipalizzate in campo energetico, e ADOA, l'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona, hanno sottoscritto un importante accordo di fornitura di energia elettrica e gas metano a realtà non profit del terzo settore, enti ecclesiastici, istituti religiosi. Contento di poter salutare questo accordo il Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Questa transizione che tutti auspichiamo dalle fonti fossili alle energie rinnovabili ha bisogno di passi concreti. Quello di cui sin qui è stato detto mi pare che rappresenti un primo passo concreto ed ha il pregio di passare, per così dire, dalla teoria alla pratica. 16 milioni l'anno e kilowattora di energia che verranno forniti ai 52 enti non profit aderenti al network etico, oltre 5 milioni in metri cubi di gas. E' un esempio sicuramente virtuoso che abbiamo bisogno di mettere a fuoco, conoscere perché poi nel far rete, nel mettere in comune le varie esperienze all'interno del nostro territorio italiano, che possiamo avere anche una grande ricchezza e un moltiplicatore di esempi. Con l'accordo sottoscritto, infatti, oltre a ottenere condizioni tariffarie davvero competitive, viene data vita una partnership per lo studio e la realizzazione di modelli di comunità energetiche solidali che consentiranno di dare un contributo concreto e replicabile di contrasto alla povertà.